Non siamo un fattito, non siamo una casta, siamo un città Per la sua vicinanza, e siamo tutti trepidanti di sentire le sue parole Buonasera, io sono molto emozionata in questo momento e quindi mi scuserete ma veramente io in questo momento ho alle spalle una realtà che è drammatica, è uno sfregio ho alle spalle una realtà che voi vedete che è drammatica, urla nella sua drammaticità questo atto così ignobile, veramente è una ferita lo dico con la rabbia di chi si trova a gestire tutti i giorni i problemi che abbiamo problemi di mancanza di fondi e questo è un atto che veramente mina e ci toglie possibilità di fare delle cose in un quartiere come questo, ho una rabbia dentro veramente molto profonda poi ho di fronte, grazie a Dio, tantissime persone, lo dico veramente, abbiamo parlato dei bambini ci sono persone che sono così gratta, è un gesto così dignitoso che guardando questo sfregio che hanno fatto alla città, dicono non può succedere e vi danno veramente una sensazione di gratitudine perché le parole del sindaco che sono le nostre è che non ci si può fermare davanti a una cosa del genere, ad essere così in tanti davanti a questo vuol dire che non ci fermeremo e allora il centro era chiuso, la piscina era aperta, il centro era parzialmente chiuso ci sono anche cose da mettere a posto, Milano Sport che faceva fatica a entrare quindi è comunque una storia spasticciata, ma l'impegno preso oggi, che prendo oggi di fronte a dei danni strutturalmente pesantissimi, questo palazzetto, lo dico per trasparenza farà fatica a aprire velocemente, ma la piscina è aperta e grazie a Dio ci sono dei campi che ad oggi erano incontri, campi da calcio e campi da tennis, che verranno riaperti il più velocemente possibile attraverso il Milano Sport, con il nostro, che è l'ospazio dei bambini che devono giocare di fronte a questo sfregio per far vedere alle persone che non ci fermiamo davanti a una cosa del genere, con la rabbia che ci hanno portato via uno dei nostri centri, con questa rabbia profonda io vi dico non ci fermiamo, apriremo il più velocemente possibile. Grazie. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo un genio